La felicità possibile è il tema di questa edizione di Passaggi, Festival della Saggistica, giunto alla sua quarta edizione in un crescendo rossiniano di consensi e frequentatori. Una progressione anno per anno, edizione dopo edizione, che ha fatto sì che gli organizzatori decidessero di fargli fare il salto di qualità, di mirare alto, anche in virtù del fatto che le librerie cop hanno inserito il Festival della Saggistica nel loro circuito, al pari di più blasonate manifestazioni come Mantua, Ferrara e Pordenone. La dichiarata intenzione di questa amministrazione di puntare forte sull'aspetto culturale per incentivare un tipo di turismo qualificato e a misura di città trova riscontro in questo cambio di passo che si è voluto imprimere al Festival di quest'anno, coinvolgendo tutta la città a partire dal suo cuore, la piazza 20 Settembre. Noi vogliamo diventare un grande festival nazionale e grazie alla presenza di librerie cop, che ha 40 punti vendite in tutta Italia, Fano e Passaggi Festival viene messa insieme a Pordenone, Mantua e Ferrara, i grandi festival nazionali che vengono sponsorizzati dalle librerie cop. Quindi un grande cambiamento di passo e chiediamo a tutte le associazioni e alle varie entità della città di Fano, ma ai cittadini in modo particolare, di supportarci e nei quattro giorni di giugno, di fine giugno, stare con noi in piazza, perché quest'anno il festival si svolgerà in piazza. Oltre alle location nuove, anche tutto il pacchetto di proposte dei quattro giorni di festival per attrarre il turista, si distingue dalle passate edizioni. Pacchetti turistici e una passaggi card con scontistica che il tour operator, legato alla manifestazione, mette a disposizione dei viaggiatori. E inoltre, laboratori per bambini in piazza Andrea Costa e anche lungo corso Marteotti, mostre e incontri degustativi in ogni punto della città e anche in spiaggia. Quest'anno a cominciare dalla location, come si dice, la piazza 20 settembre, che è diciamo il punto più visibile nella città e che dà esalto ovviamente alla presenza di un festival, dice già lunga questa cosa. Unitamente alla Mediateca, che è l'altro punto dove saranno organizzate delle manifestazioni importanti e altri punti capillarmente distribuiti nella città, che viene un po' invasa in modo bonario da queste iniziative che abbracciano il tema della cultura, ma anche quella dello stare insieme, del degustare vini. Ci sarà coinvolta Piazza Cavura, anche lo stesso San Francesco, che è questa piccola San Galgano nel centro storico che piace molto, in modo tale che il passaggio festival, giunto alla quarta edizione, sia l'occasione straordinaria per parlare di Fano sempre di più a chi ci